Gentili telespettatori, buona giornata. Vittorio Feltri dice e racconta perché ha deciso di iscriversi a Fratelli d'Italia, di candidarsi a Milano come consigliere comunale. Credo che a Feltri di fare il consigliere comunale non gliene può fregar di meno, ma lo fa perché lui ormai stravede per Giorgia Meloni, questo sembra ormai chiaro, è un po' quella sindrome di Orban, Orban che stravedeva per Salvini, poi per Meloni, poi di nuovo per Salvini, poi di nuovo per Meloni. Alla fine nel centrodestra, come abbiamo sempre detto, non contano i partiti, contano i capi politici, la gente segue il capo politico. Di che partito era? Non mi ricordo. Ecco, questo è il fatto. Ma Feltri dice è la migliore non solo del Parlamento. E così Vittorio Feltri scrive il suo editoriale, di suo pugno su Libero, dove racconta il perché e il per come. Dice beh sì, ebbene sì, mi sono candidato per le comunali di Milano. Non mi sembra una cosa eccezionale, eppure vedo che i media si interessano tanto della mia scelta. Sarò capolista di Fratelli d'Italia e, a Dio piacendo, diventerò consigliere, non presidente della Repubblica, con calma e gesso, no? Vi ricordate quando Lino Banfi volava sull'aereo charter con Paolo Villaggi? Calma e gesso, compare, non è un fesso. Ecco, anche lui dice Feltri, calma e gesso, non sarò presidente della Repubblica, vi spiego perché ho entusiasticamente accettato di buttarmi nella mischia elettorale. Confesso ai lettori di Libero di aver sempre avuto una spiccata simpatia e ammirazione per Giorgia Miloni, della quale sono diventato un sostenitore. Quindi Vittorio Feltri dice sono un sostenitore, significa che il voto di Vittorio Feltri è per Fratelli d'Italia. Lei è brava, condivido le sue opinioni improntate a coerenza e sincerità. Pertanto non ho resistito alla tentazione di accettare la sua offerta che mi lusinga e mi onora. Non ci sono retroscena da raccontare, mi limito a dire che spero di essere utile alla causa, procurando qualche voto in più all'unica destra democratica italiana capace di sedurre i cittadini del nord e del sud. Si era detto che avrei potuto essere in gara anche per occupare il posto di sindaco di Milano, ma era solo così una buttata lì. Non sono un politico né di lungo né di breve corso e non saprei amministrare nemmeno casa mia. Figuriamoci, sono in grado di tenere a bada una metropoli. Se la lingua italiana ha un senso, il consigliere deve dare dei consigli e fin qui ci posso arrivare. Il consigliere dovrebbe dare dei consigli. Dirò la mia opinione in sintonia con Giorgia Meloni, una fuoriclasse che va ascoltata e seguita fedelmente perché è la migliore del Parlamento e non solo di quello. Noi di Fratelli d'Italia non vogliamo cambiare il mondo né l'umanità, speriamo soltanto di rendere vivibile questo nostro paese bloccato dal conformismo dalla sinistra più insulsa del mondo. Il nostro pensiero è rivolto alle masse e siccome il nostro partito al momento è il primo della patria, siamo convinti di poter contare molto ai fini di un cambiamento sostanziale della società. Non mi sono mai montato la testa, figuriamoci se me la monto ora, che sono solo in lista e non in vista. Spero di non avervi annoiato. Vittorio Feltri rappresenta l'elettore che ha cambiato dalla Lega Fratelli d'Italia. Questo è il classico caso che potete moltiplicare per migliaia di volte e rappresenta il prototipo dell'elettore della Lega che cambia nell'elettore di Fratelli d'Italia. Non sono sicuro che Feltri sia stato mai un elettore della Lega, però io mi immagino che fino a un anno e mezzo fa Feltri fosse un grande, grandissimo sostenitore di Matteo Salvini. Quando c'era il governo Conte I, Vittorio Feltri era un sostenitore sfegatato di Matteo Salvini, delle sue politiche, politiche migratorie, da quando poi? Infatti il consenso della Lega era intorno al 40%, c'era uno dei sondaggi che davano la Lega al 40%. Dopo l'uscita del governo di Salvini dal Giuseppi I, Feltri, come tanti elettori, hanno cominciato a guardare verso il partito di Giorgia Meloni. Prima hanno cominciato a guardare in maniera così, svogliata, poi sempre più insistente e poi hanno deciso, come Feltri, di cambiare. E tutto dipende, come dicevo, tutto questo dipende dal capo politico, non dal partito che si chiama Fratelli d'Italia, Lega, Cipecioppe, Tricotracco. All'elettore non interessa nulla se che sia Lega o Fratelli d'Italia non gliene frega niente. L'elettore italiano, come Feltri, segue il capo politico, quello che gli piace di più in quel momento. Prima gli piaceva Salvini quando era nel governo Giuseppi I e poi ha cambiato idea, Feltri, e ha completamente sposato l'altro capo politico, Giorgia Meloni. Questo è quello che è successo a molti italiani. E così vi ho raccontato anche che cosa dice Vittorio Feltri con questo suo atto di fedeltà, perché ha fatto capire che a lui di fare il consigliere comunale non gliene può frega de meno. Dice consigliere da consigli, quindi fino lì ci posso arrivare, do dei consigli, ma questo l'ho fatto perché me lo ha chiesto Giorgia Meloni. E lui ha voluto specificare in un'altra intervista, dice se me l'avesse chiesto un altro capo politico non lo avrei fatto. Chi è l'altro capo politico? Silvio Berlusconi? Ovviamente che no. Praticamente sta dicendo se Salvini mi avesse chiesto la stessa cosa avrei detto di no. Questo lo ha detto ieri, senza dire il nome di Salvini, lo ha detto in un'altra intervista. Questo per farvi capire che a lui di fare il consigliere comunale di Milano non gliene frega assolutamente niente. Lo fa perché in questo momento lui stravede per Giorgia Meloni. Questa è la realtà. Bene, io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buona giornata. Ci vediamo tra una ventina di minuti per un altro video. Ricordatevi che nella community trovate tanti sondaggi ai quali poter partecipare e commentare. e poi c'è anche l'altro canale che è Tele Italia Seconda Rete al quale vi invito ad iscrivervi anche lì. Grazie a tutti, ci vediamo presto. Arrivederci e grazie.